Banca su un giorno Buonasera Tantissimo Iris Cosa succede Romani? No, non posso dirlo Sono andato da Diego e Tozzi, vediamo Possiamo dirlo Domani c'è la nostra nuova canzone Piedi Ok, ora vado da Lisa Lisa, cosa succede domani? Ma non dovevi dirlo Andiamo da Massi Cosa succede domani? Ti portai per sushi? No Che succede domani? Bene, manca un giorno Vi aspetto domani Su mio profilo Instagram Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti